benvenuti nel canale di crocello sicili oggi ci occuperemo di realizzare una margherita con la fogliolina che trovo davvero molto carino è un progetto che si può si può adattare a diversi usi per esempio può diventare una bomboniera un segnaposto per le nostre tavole primaverili oppure semplicemente si può fare una composizione in questo modo che trovo davvero la prima mezza maglia alta e all'interno dobbiamo avere un totale di 11 mezze maglie alte grazie grazie partiamo con 3 catenelle così entrando nella prossima maglia formiamo la prima maglia bassissima le 3 catenelle 3 doppie maglie alte grazie 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 saltiamo la prima Grazie. 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 a tutti e alla prossima